bentornato guerriero e grazie mille del supporto che mi stai dando su tutti i video che sto pubblicando su questo canale youtube grazie soprattutto per i like e le visualizzazioni che mi state dando sulle precedenti tier list che abbiamo fatto sugli ar della season 4 di warzone cold war e sugli smg che sono usciti giusto appunto ieri della season 4 di warzone cold war grazie ancora è a grande vostra richiesta oggi andiamo a vedere i fucili di precisione e i fucili da sniper che sono meta in questa season 4 di warzone cold war ma prima di cominciare ti ricordo lascia un like ed iscriviti a questo canale inoltre ti aspetto su twitch tutte le volte che vado live al canale twitch tv slash bitlocker e ti aspetto anche lascia un follow anche sugli altri canali social instagram e tik tok dove pubblico alcune volte degli estratti dei video di youtube andiamo a bomba a vedere esattamente quali sono i fucili di precisione e sniper che non possono mancare nel nostro loadout let's go partiamo a bomba con questa tier list sniper e fucili di precisione perfetto allora abbiamo l'aug che è stato dominante per tutta la season 3 è stato nerfato parecchio però adesso è stato baffato di nuovo nel controllo del rinculo quindi adesso ha un rinculo molto più gestibile si posiziona come tier 2 molto buono l'SKS un fucile di precisione che fa veramente un po' cagare e diciamo che si posiziona sotto la media la X50 la X50 è uno sniper veramente eccellente e molto buono non lo metto nella fascia competitive competitive scusatemi soltanto perché ci sono fucili molto molto più performanti rispetto alla X50 il carve 2 è un tier 4 nicchia è un fucile che prometteva di essere il nuovo AUG però diciamo che è un fucile che si è brillato bene funziona discretamente nel medio raggio ha un burst rifle di tre proiettili alla volta e è abbastanza forte nel medio però diciamo che pecca poi nel lungo nel corto pecca in tantissimo il crossbow quindi la balestra di modern warfare e fa un po' schifo quindi diciamo che tempo di ricarica lunghissimo danno il proiettile cade tantissimo non è proprio il massimo della vita il dmr 14 è stato recentemente ribaffato e si posiziona sicuramente nella fascia competitiva perché il danno è comunque molto molto importante è un fucile a colpo singolo un po' come il fall però è veramente molto molto forte bisogna imparare a ricontrollarlo non è più il dmr che si usava all'inizio della season 2 che praticamente distruggeva qualsiasi nemico si incontrasse adesso c'è bisogno di un po' più di maestria per poterlo controllare il dragunov il dragunov fa decisamente schifo e lo mettiamo tier 3 sotto la media le br14 anche questo diciamo che non ve la sto a menare ragazzi guerrieri non vi racconto perché fanno schifo lo sapete già da voi se lo avete raccolto qualche volta da terra diciamo che difficilmente ci avete vinto un fight a meno che non avete trovato qualcuno senza pad in mano dall'altra parte poi abbiamo l'hdr l'hdr è un sniper veramente fortissimo ha una delle più veloci bullet velocity scusatemi ha una delle maggiori velocità proiettile di tutto il game ha un'ottima consistenza nel lunghissimo raggio ed è veramente un ottimo sniper il proiettile cade poco ed è veramente molto molto buono sicuramente si merita la tier 1 competitive poi car 98 che ve lo dico a fare ovviamente rimane ancora meta tanti vociferavano che sarebbe stato nerfato un pochettino per renderlo un pochettino meno dominante ma comunque sia è sempre un ottimo fucile di precisione per uno sniping aggressivo questo viene utilizzato solitamente per sniperare dai 60 a 100 metri anche se non capita anche se capita spesso e volentieri di fare sniperate oltre 200 metri quindi è un fucile di precisione a tutto tondo veramente molto buono molto versatile molto veloce ed è per questo che è diventato famoso su verdansk diciamo che il 90 per cento dei player top utilizza il car 98 ma anche un altro fucile che vedremo dopo l'M16 l'M16 è un fucile di precisione a raffica di tre colpi che è veramente ancora molto buono nonostante sia stato leggermente nerfato per via del combo che faceva insieme all'aug aug m16 erano le due spine nel fianco nelle season passate adesso l'aug è stato ribaffato leggermente ma l'M16 è stato reworkato un pochettino e si merita il tier 1 competitive è veramente ancora molto forte anche se ovviamente non in linea con il tier 0 meta andiamo a vedere l'M82 questo è una piacevole sorpresa perché con i recenti buff che ci sono stati per quanto riguarda la velocità proiettile delle canne e tutti quanti vari rework che sono stati per quanto riguarda gli sniper adesso l'M82 ha una velocità proiettile molto buona di quasi 1100 metri al secondo e il quello più veloce a 1280 metri al secondo quindi molto buona la velocità proiettile ha un barcollamento mentre siamo in puntamento veramente molto 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 lieve e quindi in questo senso è veramente un ottimo fucile che se buildato come si deve può dare delle soddisfazioni ovviamente non rientra nella categoria competitive o meta a vedere l'MK2 carabina che lo dica a fare è ovviamente è in tier 3 non ci perdo più di tanto tempo poi il Pellington il Pellington anche in questo caso è un fucile sniper molto buono ha una velocità proiettile un pelino più bassa rispetto alla media in questo momento ci sono fucili sniper molto superiori rispetto al Pellington quindi direi che se lo trovate per terra usatelo se invece avete la possibilità di scegliere quelli sopra sono sicuramente meglio l'R1 shadow hunter questo è simpatico lo metto nella categoria tier 4 nicchia perché allora ha ovviamente one shot praticamente dappertutto basta che riesce a prendere l'obiettivo e distrugge il tuo enemigo che hai di fronte però è veramente situazionale diciamo che io non lo metterei mai all'interno di un loadout semplicemente perché è difficile da utilizzare e ha un raggio molto ridotto oppure devi saper calcolare veramente molto bene la caduta del proiettile quindi tanta roba ma difficile poterla inserire in un contesto di fighting quindi mettiamolo nella nicchia per non metterlo sotto la media è comunque divertente da utilizzare perché ha un tempo di ricarica veramente molto buono il Raite KMR su questo fucile ci ho fatto una recensione tantissimo tempo fa aveva le potenzialità per diventare un ottimo fucile da sniper però purtroppo per via della velocità proiettile che fa schifo del proiettili che cadono tantissimo il danno non è consistente va sotto la media se fosse reworkato sarebbe veramente molto divertente da utilizzare l'SPR l'SPR l'ho recensito recentemente si merita sicuramente la fascia tier 1 competitive però dopo i recenti buff che ci sono stati diciamo che non rientra più nel top 0 tier meta quindi diciamo che è un ottimo un ottimo sniper in passato era un hitscan praticamente dove puntavi distruggeva adesso invece è sempre a una velocità proiettile importante un danno stratosferico però comunque sia viene relegato al tier 1 competitive molto buono quindi in linea con chi vuole utilizzare un fucile da cecchino anzi in questo caso un fucile di precisione senza avere troppi troppi lati negativi questo ne ha veramente pochi l'unico lato negativo che ha è il tempo di puntamento quindi un I'm down sight abbastanza importante poi andiamo a vedere lo Swiss K31 questo dopo i recenti buff è diventato il fratello maggiore minore diciamo il fratello gemello del car 98 non è proprio il fratello gemello perché in tanti settori lo Swiss K31 supera il car perché ha più danno quindi diciamo che con un colpo anche agli arti un colpo al petto tirate giù una persona quindi un player viene annientato dallo Swiss K31 il la velocità proiettile adesso con i recenti buff è in linea con il car la velocità di puntamento è presso che identica vince il car di pochissimo però comunque sia è un fucile che veramente viene scelto tantissimo perché in questo momento a parte che c'è bisogno di variare un po' dopo che si è usato per tanti anni il car 98 adesso lo Swiss K31 è sia superiore su tanti punti di vista che dà un po' un sapore diverso a chi lo può usare perché almeno usa qualcos'altro oltre il car comunque è un ottimo fucile tir zero meta sicuro perché fa veramente male 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 il tundra andiamo al tundra che è un fucile da sniper molto buono per caratteristiche ha un tempo di ricarica veramente stratosferico ricarica il caricatore in pochissimo tempo ha un barcollamento durante la mira veramente inesistente però purtroppo pecca in velocità proiettile e in danno al bersaglio e comunque sia un fucile da sniper molto buono e si attesta insieme agli altri diciamo che ovviamente se lo trovate sicuramente si saprà far valere è veramente molto molto buono poi abbiamo il type 63 in questo caso il type 63 a diciamo erano accoppiati insieme al dmr 14 per via del fatto che sono due fucili a colpo singolo avevano più o meno gli stessi danni adesso il danno del type 63 è leggermente superiore ma è difficile da controllare per via del recoil veramente importante rispetto al dmr 14 che è stato reworkato recentemente quindi cosa dirvi è un fucile di precisione molto buono sicuramente difficile da controllare e rischiava di stare sotto la media per via del fatto che tante volte è difficile sparare a raffica nel senso un colpo dietro l'altro e tenere l'obiettivo inquadrato perché sbarella veramente tanto arriviamo all'ultimo fucile da sniper lo z rg 20 mm anche di questo ho fatto una recensione poco tempo fa vi lascerò il link da qualche parte in descrizione qui e ovviamente è tir zero meta perché perché ha la più alta velocità proiettile che c'è in questo momento nel gioco quindi circa 1280 metri al secondo ha un danno esagerato in qualsiasi parte del corpo e diciamo che l'unica pecca che ha questo z rg è che ovviamente essendo rispetto al car e alla swiss k31 che se non fucile di precisione da lungo ha un tempo di puntamento molto più elevato rispetto a questi due quindi per sniping aggressivo car 98 e swiss k31 per invece uno sniping un pochettino più accurato dalla distanza dove non dobbiamo correre come dei forsennati per la mappa lo z rg 20 mm sfonda tutto ovviamente a patto di avere una buona mira questa è la classifica generale dei fucili sia di precisione che sniper della season 4 di warzone cold war vediamo velocemente la build del car 98 ovviamente non poteva mancare come bocca di fuoco il monolithic suppressor come canna la 27.6 singard poi come laser il tac laser lo sniper scope come ottica e il sd vol precision comb che ci permette di essere più stabili nel puntamento ci dà veramente una stabilità senza pari e questa è la build che ormai abbiamo imparato a digerire nel corso di queste season di warzone vediamo insieme la build dello z rg 20 mm questa bestia diciamo fa un po schifo esteticamente ma fa veramente tanto male allora come bocca di fuoco andiamo a inserire il rapid suppressor che ci permette di toglierci dalla minimappa darci velocità proiettile e ci dà un controllo del recoil verticale in più ci aumenta il raggio del danno poi la canna la 43.9 combattri con tutte le combattri con per gli sniper sono dei must per gli sniper ovviamente di cold war da montare poi il laser da 5 millivatt che ci dà è stato reworkato e ci dà adesso velocità di puntamento e stabilità in puntamento quindi tanta tanta roba dei buff importantissimi poi andiamo a mettere come impugnatura l'airbone elastic wrap che ci dà velocità di puntamento e ci dà resistenza al barcollamento quando ci sparano e ovviamente munizionamento da 5 questa build è veramente devastante veniamo allo swiss k31 allora in questa build che vedete in questo momento raggiungiamo praticamente le stesse performance e le superiamo del car 98 nella configurazione quindi vediamo che come bocca di fuoco abbiamo messo sound moderator ossia il silenziatore normale che ci dà un bonus nella velocità di puntamento nella velocità proiettile ci toglie dalla minimappa e ci dà un bonus sullo sprint to fire speed tanti di voi mi chiederanno perché non monti il glu suppressor perché allora ci dà sicuramente più danno sul raggio ci aumenta ancora di più la velocità proiettile ci dà un controllo delle call verticale e ci toglie dalla minimappa ma ci dà anche un malus nella velocità di puntamento nella stabilità di puntamento e noi non vogliamo questo noi vogliamo che questo sia un fucile sniper da sniping aggressivo e quindi vi consiglio di andare a montare il sound moderator per raggiungere le performance che vogliamo raggiungere con questo sniper andiamo a vedere la canna la canna mettiamo la 24.9 combattricone che ci dà velocità proiettile aumenta un pochettino il barcorlamento durante il puntamento ma è veramente molto gestibile poi andiamo a selezionare il laser da 5 mili watt che è stato reworkato recentemente e che ci dà un bonus nel aim down sight e nella stabilità di puntamento andiamo a mettere come sotto canna il bruise grip che ci dà velocità di movimento e stabilità in puntamento è veramente un bonus della madonna è molto molto buono questo fucile diventa un laser e soprattutto andiamo a mettere come impugnatura l'airborn elastic wrap che ci dà velocità di puntamento resistenza al barcorlamento durante i gunfight e stabilità in puntamento questa è la build migliore in assoluto che potete sperare di avere per quanto riguarda lo swiss k31 e fa i buchi dappertutto ovviamente il danno superiore rispetto al car 98 e lo fa preferire in questo periodo ed è infatti credo che sia uno dei primissimi pick per chi vuole fare sniping aggressivo benissimo anche in questo caso abbiamo concluso la nostra carrellata di fucili di precisione e fucili sniper quindi spero di esservi stato utile ho cercato di condensare il più possibile tutte le informazioni che sono veramente tantissime su questi fucili ci sono tanti fucili che se venissero reworkati un pochettino entrerebbero subito in meta ma senza neanche battere ciglio in questo momento tre sono i nostri pick obbligatori se vogliamo sniperare diciamo che anche quelli nella fascia competitive sono veramente molto molto buoni e che sicuramente nelle mani giuste fanno il danno che devono fare però i tre primi nella tier 0 dominano tantissimo quindi concludendo spero di esservi stato utile vi aspetto su tutti gli altri social instagram twitch e tiktok trovate sotto i link in descrizione il mio canale twitch e twitch tv slash bitlocker mi trovate quando vado live se volete giocare insieme sono a vostra disposizione per quanto riguarda tutti gli altri aggiornamenti se volete qualche altro tipo di approfondimento fatemi sapere nei commenti qui sotto per il momento questo è tutto keep fighting alla prossima